Andrea Lonardi, presidente della seconda zona FIV, Spezia-Toscana-Umbria. Abbiamo appena terminato due weekend a San Terenzo di Lerici con la Lega Navale di Lerici e la Lega Navale di Spezia che hanno portato a termine un evento di livello nazionale. Le tue impressioni visto che sei stato presente all'evento? Allora, intanto grazie per l'invito e per questa occasione che mi viene data di esprimere la mia opinione su questa regata, che è stata un vero e proprio evento sportivo prima di tutto, dove la classe 420 insieme alla Federazione San Terenavella, tornano in seconda zona dopo un po' di anni e di questo riconosco alla classe 420 un'attenzione importante, ma anche alla zona un impegno notevole perché la flotta dei 420 e dei doppi in generale in seconda zona è tornata a crescere direi esponenzialmente grazie a un lavoro prodotto negli anni. La regata sì, sono stato presente, ho visitato ogni dettaglio, ma soprattutto con il comitato di regata abbiamo avuto modo di essere interloquiti più volte su certe necessità e su certe riflessioni che dovevano essere messe in atto secondo noi e do applauso agli organizzatori di aver fatto un ottimo lavoro che è stato percepito, da noi non abbiamo più un ruolo in quel momento, il ruolo dal giorno dell'inizio della regata in poi ce l'hanno gli atleti, hanno vissuto un'ottima manifestazione organizzata a terra negli spazi logistici benissimo, devo dire la verità, vi ho sicuro che di campi di regata ormai se ne sono visti tanti, l'elice è stata al top, devo dire la verità, gli spazi pubblici che le varie amministrazioni, i vari uffici hanno messo a disposizione dei club che hanno organizzato la regata sono stati importanti e determinanti e soprattutto strategici alla funzionalità stessa della regata e anche in mare la regata è stata condotta molto bene anche se poi qui il padrone lo fa ovviamente il vento, c'è stato anche quello quindi a parte il primo giorno direi che nove prove su dodici sono un risultato che tutti i campi di regata vorrebbero avere e alla fine su 102 barche esattamente concorrenti tra i quali anche un po' di equipaggi stranieri chi vince in queste condizioni è sicuramente un equipaggio bravo perché a me piace parlare chiaro di queste cose, alle regate vincono quelli bravi e quelli che meglio si destreggiano, quindi è stata una regata completa, questa è la mia posizione di oggi, credo che questa regata possa dare anche slancio nuovo al nord della nostra zona e come abbiamo detto più volte credo che la scommessa sia l'unione di tutti gli intenti, la passione unisce e la pratica invece ci dà la consapevolezza di far bene. Bene, prossimi eventi importanti, siamo qua a Via Reggio dove è stato presentato il campionato italiano dei doppi, una grossa soddisfazione per la zona immagino. Assolutamente sì, è un grande ritorno, nel 2018 abbiamo già fatto i singoli, adesso facciamo i doppi e il prossimo evento sicuramente è quello che ci saranno i primissimi giorni di settembre, proprio qui a Via Reggio, coinvolto tutto un comitato e ecco perché torno a dire che l'unione fa la forza, che è una cosa talmente scontata quanto davvero difficile da perseguire invece nella pratica, però ci sono poi, non vorrei dimenticare che in zona si fanno quasi 400 regate all'anno, a volte abbiamo anche superato questa soglia, quindi per me che faccio il presidente di zona ogni singola di queste regate è un traguardo, è un'importante competizione, è un importante evento sportivo, ci sono quelli un pochino più prestigiosi come questo, come ce ne sono altri, come le selezioni zonali, come i campionati zonali, come le grandissime regate di Optins o le grandissime regate di Lase e anche qui le grandissime regate di Altura. Noi non finiamo mai di davarci la voglia di avere regate belle, io di questo da regatante o meno facciamo finta di dire da praticante non sono, sono sempre contento. Bene, allora grazie presidente di questa tua breve intervista e ci vediamo per le prossime. Grazie, grazie mille, arrivederci a presto. Grazie a tutti.